Quasi 7.000 multe e 6.956 per la precisione, 22 sanzioni al giorno. A poco meno di un anno dalla loro installazione, il Comune di Padova traccia un primo bilancio del funzionamento dei dispositivi automatici per il rilevamento del passaggio con il rosso al semaforo. Sono 11 gli apparecchi accesi in tutta la città lungo le principali direttrici di ingresso uscita dal centro. Padovani dirigenti, precisa la nota diffusa dal Comune, tutto sommato promossi, ma chi rientra tra i quasi 7.000 multati si è visto togliere 6 punti dalla patente per una sanzione pecuniaria pari a 163 euro in caso di passaggio con il rosso, scesi a 4 punti e 41 euro se non si è passati con il rosso, ma si è oltrepassata la linea bianca dal resto della carreggiata come da codice della strada. Il Sigaro, il nuovo sistema di rotatorie che il Comune sta disegnando alla stanga, porterà alla rimozione del dispositivo posizionato tra via San Marco e via Giolitti. Tranquilli, la polizia locale è già sulle tracce di un incrocio pericoloso in cui posizionarlo, come anche di una nuova intersezione di vie dove installare il dodicesimo apparecchio che la Giunta Giordania è in programma di acquistare. Ogni decisione verrà comunque alla fine assunta dalla Giunta, per ora restano quindi in funzione di 11 dispositivi accesi 11 mesi fa, compreso quello tra via San Marco e via Giolitti.